Eppure qualcosa si muove, si muove all'interno della continassa, si muove all'interno delle stanze segrete del centro sportivo e della sede della Juventus perché in ogni caso il trasferimento ormai indirizzato di Giovanni Manna verso il Napoli muove sicuramente alcuni tasselli all'interno della dirigenza della Juventus in proiezione del nuovo ciclo è inevitabile che l'estate prossima ci siano dei movimenti all'interno della squadra mercato e non solo Cristiano Giuntoli aveva una lista di nomi, di fedelissimi, pronta già in primavera dell'anno scorso quando sostanzialmente ha fatto i colloqui con la Juventus per farsi scegliere come nuovo responsabile dell'area sportiva del club bianconera di conseguenza ci sono una serie di valutazioni in corso, c'è da tenere monitorate alcune posizioni perché tutti i dirigenti dell'area sportiva sono in scadenza di contratto l'unico che l'estate scorsa aveva rinnovato fino al 2025 era stato Giovanni Manna perché in attesa dell'arrivo di Cristiano Giuntoli Manna doveva fare il mercato e per avere una maggiore solidità in ambito di trattativa il club lo aveva consolidato con rinnovo fino al 2025 Giovanni Manna è già noto, ha scelto il progetto del Napoli con un contratto di 5 anni e chiaramente al termine di questa stagione si andrà a trasferire in Campania per cominciare la sua nuova parentesi una parentesi ambiziosa e una grandissima opportunità quella che arriva per il giovane dirigente giovane d'età, è un classe 88, obiettivamente di esperienze ne ha fatte tante non solo alla Juventus quando arrivò nel 2019 e Cherubini lo strappò alla concorrenza dell'Inter perché c'era Marotta su Giovanni Manna, in precedenza aveva fatto un'esperienza a Lugano tra l'altro con un budget ridotto rispetto ad altri club svizzeri importanti eppure aveva centrato la qualificazione in Europa League è chiaro adesso che dovrà dimostrare tantissimo a Napoli in un contesto completamente diverso rispetto a quello attuale e avendo anche però l'opportunità di poter gestire in prima linea questo chiaramente va a togliere un tassello importante all'interno della dirigenza della Juventus Giuntoli Manna lo avrebbe trattenuto volentieri così non è e io credo il ruolo di vice direttore sportivo in prima squadra lo andrà ad occupare Stefanelli, attuale direttore sportivo del Pisa si era già parlato di lui l'estate scorsa quando era ancora a capo dell'area sportiva del Cesena Stefanelli è stimato tantissimo da Cristiano Giuntoli ha già lavorato con lui al Carpi diversi anni fa ed è sicuramente un professionista con grandissima competenza anche in ambito scouting così come Giovanni Manna oggi Stefanelli potrebbe essere il vice direttore sportivo in prima squadra essere di riferimento per la squadra e per i giocatori potrebbe far da tramite con l'allenatore e potrebbe anche coordinare il tavolo degli osservatori della Juventus l'altro fedelissimo che sembra scontato possa arrivare alla Juventus è Pompilio che è sostanzialmente il braccio operativo di Cristiano Giuntoli da sempre in tutte le esperienze sportive che ha fatto da Carpi ad oggi ed è stato piuttosto anomalo aver visto quest'anno Giuntoli lavorare senza il suo braccio destro Pompilio è a scadenza di contratto al Napoli è già stato intercettato nel centro di Torino in più occasioni nell'ultimo periodo insomma sembra ormai ad un passo dalla Juventus sembra devo passare solo ed esclusivamente il tempo necessario per materializzare il suo trasferimento definitivo sotto la Mole e prendere in mano tutta la parte burocratica che riguarda i contratti dei giocatori e il coordinamento delle segreterie operative tutto questo potrebbe anche bastare per quella che è la nuova struttura della dirigenza juventina anche perché va detto e sottolineato Cristiano Giuntoli l'estate scorsa non solo ha accettato di lavorare con la struttura esistente quella che ha ereditato dal precedente management ma in realtà non è arrivato con pregiudizio non è arrivato con la voglia di cambiare completamente tutto ma semplicemente si è ritrovato ad avere l'opportunità di poter valutare la struttura e per questo motivo non è per niente da escludere che diversi dirigenti che hanno il contratto in scadenza possano consolidare la loro posizione all'interno della Juventus e possano allungare il contratto anche nell'ambito di questo nuovo ciclo per esempio Claudio Chiellini che è tornato l'estate scorsa alla Juventus dopo l'esperienza di due anni al Pisa dove ha sperato anche la promozione in Serie A è vero è a scadenza perché l'estate scorsa ha firmato un contratto di un anno ma potrebbe tranquillamente rimanere a capo della seconda squadra e quindi nell'ambito della dirigenza juventina si fa però il nome anche di Matteo Scala che potrebbe occuparsi dei prestiti è una delle operatività che è stata associata a Claudio Chiellini l'estate scorsa a scala anche lui è stato per tanto tempo un collaboratore di Cristiano Giuntoli lo è stato al Carpi, lo è stato al Napoli ha avuto anche un'esperienza al Bari così come alla Fermana in questo momento lavora alla Genoa è anche lui un fedelissimo di Cristiano Giuntoli e potrebbe eventualmente occuparsi dei prestiti per il resto c'è da seguire una serie di movimenti che riguardano soprattutto i dirigenti che oggi sono operativi all'interno della Juventus discorso chiuso sull'area femminile per esempio dove Stefano Braghin di recente ha rinnovato il suo contratto prolungando la scadenza al 2027 è chiaro che poi adesso Braghin dovrà fare una serie di scelte importanti una su tutte quelle del nuovo allenatore ma bisogna capire anche quello che succede al settore giovanile tra i dirigenti che dovrebbero lasciare la Juventus a fine stagione c'è Federico Cherubini che potrebbe andare a fare il direttore generale in un altro club italiano si parla tanto del Parma però io credo sia giusto in questo momento ancora aspettare delle evoluzioni perché per quello che ne so ci sono anche stati sondaggi da parte di altri club di Serie A si potrebbero ancora aprire delle altre opportunità rispetto a quelle che conosciamo per i movimenti che ci sono nel nostro calcio o negli ultimi periodi e comunque parlando di Federico Cherubini ci sono anche delle opportunità che arrivano dall'estero non ultima in Arabia Saudita dove tra l'altro il dirigente della Juventus ha lavorato a diversi progetti nell'ultimo periodo certo il movimento, il trasferimento di Cherubini in un altro club potrebbe anche cambiare il futuro prossimo in qualche riferimento all'interno della struttura juventina anche al settore giovanile qualcuno che da tantissimo tempo lavora con Federico Cherubini potrebbe anche seguirlo uno su tutti per esempio Massimiliano Scaglia che è il responsabile del settore giovanile della Juventus avrebbe anche indirizzato il suo futuro verso la permanenza in bianconero però insomma ci sono diversi personaggi che poi dovranno ancora formalizzare il loro contratto e la loro posizione all'interno del club bianconero bisogna ancora seguire diverse evoluzioni forse anche per questo motivo ci sono diversi nomi che vengono accostati alla Juventus da Sbravati che è il responsabile del settore giovanile del Genoa che Cristiano Giuntoli stima tantissimo a Romairone che tra l'altro nell'ultimo periodo è stato intercettato più volte allo stadium a vedere delle partite anche lui è un ex collaboratore di Giuntoli è un dirigente che ha un ottimo rapporto con l'attuale capo dell'area sportiva della Juventus nell'ambito di questo rimpasto e con la possibilità che alcune caselle possano andarsi a liberare insomma le candidature più forti sono quelle ovviamente che portano a collaboratori che hanno già lavorato accanto a Giuntoli poi c'è una grande suggestione e qui devo sottolineare non si tratta assolutamente di notizie anche perché rispetto alle indicazioni ufficiali che abbiamo sempre raccolto nell'ultimo periodo la proprietà ha affidato il club ad un governo tecnico e non c'è apertura né tanto meno volontà in questo momento di coinvolgere bandiere o ex calciatori nell'ambito della dirigenza proprio per una volontà mirata di affidarsi in questo momento solo ed esclusivamente ai tecnici tra i tifosi però insomma credo nei commenti mi direte chi sarebbe il vostro preferito tra i tifosi continua ad esserci questa esigenza di trovare un riferimento all'interno della società un riferimento che possa comunque richiamare gli anni gloriosi della Juventus io credo il nome più gettonato che in questo momento circola tra i tifosi sia quello di Giorgio Chiellini Giorgio Chiellini che tra l'altro da poco ha smesso di giocare ma è ancora a Los Angeles e ha intrapreso un percorso di dirigente di campo in qualche modo sta già facendo tirocini un tirocino che sicuramente tornerà utile nel suo futuro prossimo magari perché no tornando in Italia e proprio alla Juventus considerato che insomma il suo rapporto con il club bianconero è più che solido c'è tantissima stima nei confronti dell'ex capitano bianconero e sono certo che alla prima occasione quando tornerà ad esserci la volontà di coinvolgere un ex calciatore io credo Giorgio Chiellini possa essere davvero il primissimo nome che si andrà a prendere in considerazione per un ritorno alla Juventus ditemi voi cosa ne pensate ditemi vi ribadisco chi sarebbe il vostro preferito all'interno della dirigenza in futuro iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche grazie a tutti grazie a tutti